Ciao a tutti ragazzi, come state? Oggi volevo parlarvi di questa notizia che ha fatto abbastanza parlare qui in Giappone ma non solo Dovete sapere che lo scorso lunedì, quindi giusto notizia di qualche giorno fa, una modella che è nata in Ucraina di 26 anni di nome Carolina Shino ha vinto Miss Giappone Miss Nippon, che prende il nome appunto dal nome della denominazione giapponese del paese, assegna appunto la corona alla concorrente che rappresenta la bellezza suprema di tutte le donne in Giappone Questo proprio secondo il sito dell'organizzazione La decisione è stata quella di scegliere questa vincitrice che come potete vedere non ha proprio il look più riconducibile probabilmente a una ragazza del sollevante E come potrete immaginare questa scelta ha sollevato molte domande sugli standard di bellezza e su cosa significhi realmente essere giapponese Allora, quello che ha detto Shino è, e qua cito, volevo essere riconosciuta come una ragazza giapponese Dovete sapere che Carolina è una cittadina naturalizzata che vive a Nagoya dall'età di 5 anni, quindi praticamente è giapponese Ha frequentato una scuola giapponese e è questo che ha detto la CNN Shino ha dichiarato tuttavia di aver affrontato difficoltà nell'essere accettata come una ragazza giapponese a causa del sospetto E sperava che la sua vittoria avrebbe cambiato l'opinione di chi può essere considerato giapponese E qua di nuovo cito Dopotutto viviamo in un'era di diversità dove la diversità è necessaria Ci sono molte persone che come me sono preoccupate della differenza tra il loro aspetto e chi si sentono veramente Ha aggiunto inoltre, mi è stato ripetuto che non sono una giapponese Ma io mi sento assolutamente giapponese Quindi ho partecipato a Miss Giappone credendo sinceramente in me stessa Sono stata davvero felice di essere riconosciuta in questo modo Il Giappone è un paese generalmente etnicamente omogeneo almeno per il momento Con livelli relativamente bassi anche di immigrazione Il che negli ultimi anni ha spinto le autorità a cercare più residenti lavoratori stranieri per colmare lacune Sono state fatte infatti svariate manovre politiche proprio per favorire l'immigrazione Qua bisognerebbe aprire una parentesi molto più grande che comunque non voglio affrontare in questo video Tuttavia c'è un grande problema il Giappone che è il fatto che la popolazione sta invecchiando Perché comunque ci sono molte meno nascite quindi c'è bisogno di nuove persone che arrivano Quindi benvenga se arrivano nuovi stranieri in Giappone Carolina ha fatto anche vari tweet al riguardo e ha anche detto Io sono giapponese, io sono Carolina Molti giapponesi che vivono in Giappone non apprezzano il Giappone Perché c'è un problema se io che amo tanto questo paese Sono diventata una giapponese e sono stata incoronata a Miss Giappone Questo è quello che ha chiesto su Twitter E qua sembra infatti che abbia dimostrato o almeno quello che si dice Che comunque lei non è solamente stata eletta perché è bella ma perché ha proprio uno spirito giapponese Tuttavia molti hanno messo in dubbio questa scelta e ha sollevato un po' di controversie Anche perché diciamo che non rappresenta gli ideali standard di bellezza giapponese E qua interviene lo storico Hiroe Yamashita che sempre su Twitter ha detto La discriminazione razziale è assolutamente inaccettabile Ma se il concorso Miss Giappone si basa sul concetto di bellezza Personalmente vorrei che fosse basato sugli standard di bellezza giapponese Con l'aspetto di Carolina Shino, una ragazza etnicamente giapponese Non ha possibilità di vincere secondo i moderni valori di bellezza La vittoria di Shino arriva a quasi 10 anni dalla vittoria Non so se ve la ricordate o se qualcuno ha mai sentito la notizia Ariana Miyamoto Che è diventata la prima concorrente Huff da essere incoronata a Miss Universo Giappone Uno dei vari titoli di concorsi nazionali Miyamoto ha poi rappresentato il Giappone anche Miss Universo del 2015 Partendo un po' del concorso Miss Nippon non fa parte del circuito internazionale di concorsi di bellezza E non è affiliato alle competizioni globali come Miss Mondo o Miss Universo Il primo concorso Miss Pond si è tenuto nel 1950 E' stato sponsorizzato da uno dei più grandi giornali del Giappone Ovvero lo Yomiuri Shinbun Fu originalmente istituito questo concorso per selezionare un'ambasciatrice Che avrebbe espresso la gratitudine del Giappone Per gli aiuti umanitari americani dopo la seconda guerra mondiale La competizione fu inaugurata e vinta da Fujiko Miyamoto Così per darvi un po' le notizie storiche E divenne un'attrice di grande successo La sua, qua citiamo, eleganza dignitosa Non saprei come tradurlo qua Divenne il nuovo standard di bellezza per le donne giapponesi negli anni a venire Ad ogni modo, dopo una pausa di quasi 5 anni Il concorso è stato ripristinato poi nel 1967 Da Shizuo Wada Che diventò un noto istruttore televisivo di esercizi fisici e di bellezza Il concorso è ora gestito dalla sua nipote Aiwada Che ha dichiarato alla CNN che Shino ha ottenuto il titolo di Miss Giappone Perché è, e cito, una donna giapponese che lavora Ma anche umile Con un fortissimo senso di considerazione per gli altri Quindi molto altruista Allora diciamo ragazzi che non so perché ancora nel 2024 Se sta parlando di queste cose L'abbiamo visto con quella tennista Naomi Osaka Dovete sapere che anche lei era Huff Ne parlavo anche oggi con Sabrina Che anche lei ha delle opinioni un po' discostanti su questo argomento Io so da una parte sì è importante l'integrazione Dall'altra non rappresenta il canale di bellezza nipponice Io ho riflettuto molto oggi Personalmente penso che è inevitabile che si andrà incontro a una globalizzazione E che quindi tutte queste etnie, tutti questi sangui diversi Si andranno sempre più a mescolare Quindi prima o poi questo sarà inevitabile Quindi meglio vivere nel futuro che nel passato Quindi io non ci trovo niente di male con questa vittoria Lei quindi da quando aveva 5 anni fino adesso a 26 Ha sempre vissuto in Giappone Tutto quello che lei sa probabilmente della vita O comunque della sua normalità in Giappone Lei ha scelto di rinunciare alla sua nazionalità per diventare giapponese Lei è una giapponese a tutti gli effetti Quindi non lo so Io penso che sia inevitabile Questa è l'opinione che mi sono fatta Ad ogni modo ditemi anche voi che cosa ne pensate Ditemi se secondo voi meritava di vincere questo titolo Se magari è una ragazza più giapponese, puro sangue Non lo so, mi sembra di essere in Harry Potter E parlare di babbani e di maghi Ditemi che cosa ne pensate anche voi È un argomento molto serio E secondo me l'integrazione è un fattore importante Specie di questi tempi insomma E vabbè, scrivetemi qui sotto la vostra opinione E vi leggerò con piacere A breve Un saluto da Seba E vi leggerò con piacere